Questo rapporto con i paesi, con la ex Jugoslavia, come nasce? Nasce da un'amicizia molto grande con il professor Draga Mraovic. Io sono stato invitato tre anni fa a Belgrado al meeting dei poeti internazionali. Tra l'altro Belgrado è una piazza strepitosa per la poesia. Allora, quando il 92, sotto embargo, Angela De Leo arrivò a Belgrado come ospite italiana per il meeting dei poeti, lei scese dall'aereo. Nell'aeroporto di Belgrado c'erano le gigantografie di Angela De Leo, che a Bitonto, lei dove abitava, la vicina non sapeva manco che scrivesse poesie No, questo poi perché qualcuno pensa che siano, come dire, inferiori. A Belgrado, i giovani, la sera, l'appuntamento è in biblioteca. Quando c'è una presentazione di un libro di poesie, si danno appuntamento 200-300 persone. Ma tu sai che la stessa cosa avviene a Tunisi? Eh, lo so. La Bianovic, quando ha pubblicato il Gioco degli Angeli, due anni fa, ed è presentato alla Fiera di Belgrado come anteprima nazionale, la Bianovic ha venduto nei giorni della Fiera di Belgrado, cioè ti parlo dal martedì alla domenica, 12.000 copie. Va bene? Strepitoso. E allora, la Bianovic in Russia con quel romanzo ha venduto 150.000 copie perché è un romanzo storico molto bello, dove Lio Narrante è l'angelo custode, per cui ha un alto valore anche come scrittura. Il problema siamo noi, che non scegliamo. Tu hai di fronte un altro libro molto bello che noi abbiamo pubblicato, il 2008, nell'anniversario dei 30 anni della morte di Aldo Moro, un libro dove Paolo Vallarelli, un autore terlizzese, ha immaginato invece che il 9 maggio Aldo Moro fosse vivo, quindi continuava la sua storia politica e diventava Presidente della Repubblica. e qui rilascia a 90 anni una sua intervista parlando di Berlusconi e Prodi. Cioè, per dirti un testo che a Roma è stato molto più apprezzato rispetto ai nostri lettori. Per, torniamo un attimo sulle pubblicazioni che vengono, diciamo, da Belgrado, eccetera, ci sono delle fonti di finanziamento, c'è qualcosa, perché io ti intervisto anche perché tu possa dire come si fa l'editore per le traduzioni, perché so che sono dei costi vivi questi per l'editore. Io chiaramente so che ci sono delle forme di finanziamento, ma nello stesso tempo, nel momento in cui tu accedi a delle forme di finanziamento, devi anche accettare il libro proposto. Sì. Io scelgo il mio autore. Ho capito. E quindi chiedo al professor Mravic di fare la traduzione. Sì. Quindi pago la traduzione. Paghi la traduzione, ok. E ho la qualità del libro che porto in Italia. E questo non vale soltanto dal serbo all'italiano, ma anche dall'italiano al serbo. Dall'italiano al serbo, intanto è vero che il nostro autore Pietro Battipede è stato tradotto in Serbia, perché chiaramente io ho presentato lì il nostro progetto sulla legalità di Mark, il piccolo detective, è piaciuto ed è stato tradotto. E chiaramente loro hanno pagato la traduzione e hanno pubblicato, e se tu vedi i due romanzi sono identici. Sì, copertiremo. Cambia la casa editrice. Cambia la casa editrice, però, perché chiaramente ha circolato con una loro casa editrice. Mentre qui in questo libro è un altro tipo di operazione. Di giro lo caputo, nei tuoi occhi le parole diventano pietra. Cercavamo l'avvio di una collaborazione a livello di editoria mediterranea. Sì. Traduzione in arabo. Sì, traduzione in arabo, però per quanto riguarda il Mediterraneo ci sono molti soggetti. E quindi c'è stata questa esperienza, c'è stata l'esperienza di un libro fotografico fatto con un fotografo di Ostuni, Marcello Carrozzo, ma dopodiché non abbiamo avuto la possibilità di avere altri incontri. Speravamo di aumentare questa collaborazione. Mentre in Serbia è stato per me più semplice. Quindi sto continuando, tant'è vero che adesso, oltre la Serbia, sto preparando dei testi di altri paesi dell'Est che a ottobre e novembre saranno disponibili. Io ti consiglio di guardare con estrema curiosità al panorama romeno. Sì. Perché le scritture di giovani romeni sono strepitose. Ho già in catalogo un testo rumeno e un testo slovacco. Benissimo. Che usciranno ad ottobre e saranno la nostra proposta per l'ottobre. Io ti voglio coinvolgere brevemente. Sì. Tu sei già coinvolto a pieno titolo nel dibattito sull'editoria pugliese, che è un dibattito recente che a mio modo rivedere animerà un po' la nostra estate letteraria. Io farò di tutto affinché... No, guarda, io mi impegnerò, lo prendo come un impegno civico, facciamo così. Voglio sentire il tuo parere un po' rispetto all'editoria pugliese, cioè a che cosa sta avvenendo. Io esprimo un timore, cioè che anche questo dibattito possa risultare poi un po' asfittico, un po' autoreferenziale. No, non credo questo. Allora, partiamo da un punto fondamentale, che è la nascita di questa associazione. L'APE. L'APE. Tieni presente che di associazione di editori pugliesi erano anni. Sì. Che si parlava, si pensava. Finalmente è nata. È nata. È il semplice fatto che siamo riusciti nel giro di pochi mesi a unire... 25 editori. 25, io dico, teste. Sì. Perché già è un grosso risultato. Adesso l'APE sta iniziando a fare un percorso. È chiaro, ci sono stati dei momenti immediati, tipo le fiere di Galatina, l'Expo Libro, la fiera di Torino. Alcuni momenti negativi, alcuni positivi, però sono i primi passi. È chiaro che poi, quando incontri il presidente della fiera, del Levante, per dire, guardate, l'Expo Libro non può essere fatto in questa maniera. E il presidente della fiera dice, ma guardate che l'Expo Libro non si fa più, perché Tann non vende. Allora, chiaramente, fa male un editore. Io che cosa investo a fare in questa regione, se poi il risultato è questo? L'Expo Libro non vende perché è stato proposto male. D'accordo? Sì, sì. Cioè, che attrattiva c'era a L'Expo Libro? Io, come autore, ti dico che ho delle difficoltà a rapportarmi con l'APE per due motivi. Il primo, non ho ancora ben chiaro quale sia, come dire, il mandato, non quello statutario, quello ufficiale dell'APE, perché dentro l'APE ci sono editori che hanno istituito nel corso del tempo un rapporto vessatorio nei confronti degli autori. Cioè editori che ovviamente chiedono soldi per le pubblicazioni. E questo, drammaticamente, fa scappare altrove le scritture, non gli autori fisicamente, ma le scritture. Allora, io temo che editori come te, come altri, che non chiedono soldi agli autori, possano essere in qualche misura sporcati agli occhi degli autori dalla compresenza all'interno di questa associazione. Il secondo, mi domando se l'APE abbia voglia, una volta tanto, poiché si è costituita da questa associazione che non è un'agenzia per il libro, di comunicare la propria esistenza al di fuori della Puglia, e cioè di affidare la comunicazione a figure esperte, oltre pugliesi, che possano dire all'universo pubblico, non all'universo editoriale, ma all'universo pubblico, esistono degli editori pugliesi, questi sono i cataloghi, questi sono gli autori, facciamolo. Il mio timore è che l'APE sia governata attualmente soltanto dal direttivo dell'APE. Allora, premessi il fatto che io faccio parte del direttivo, quindi... No, 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 il discorso è questo, l'APE nasce per questo secondo scopo, cioè nasce dalla volontà di creare dei progetti di promozione alla lettura, chiaramente, possibilmente fuori dalla nostra regione. Dalla Puglia. Perché molte volte gli editori pugliesi non sono conosciuti nemmeno in Puglia, attenzione, perché qui rischiamo di andare a Torino e avere un ottimo risultato da un punto di vista, perché portiamo dei libri importanti, libri che vengono letti e acquistati a Torino, poi semmai in Puglia non sanno nemmeno dell'esistenza. Sì, ma sai Peppino, questo è un po' il problema anche di come il mercato si articola. Sì. Perché tu sei conosciuto in Serbia, probabilmente non è così facile trovare alcuni tuoi libri nelle librerie di Puglia. Sì. Questo è il paradosso. Sì, perché? Perché purtroppo, allora, noi partiamo dal discorso che noi siamo non piccoli editori, noi siamo editori indipendenti. Sì. Perché chi dice che siamo piccoli editori non hanno capito niente. Sì. Allora, l'editoria indipendente è quella che non è legata a nessuna major, tipo Mondadori, che chiaramente poi ha la sua distribuzione, i suoi canali, le sue librerie, dove tu, se arrivi in quelle le librerie, prendono il tuo libro, lo mettono in un cassetto e non lo fanno. Non c'è. Questo. È finito, non è disponibile. Creando un grosso disagio per l'editore e per l'autore. Certo. Cioè, molte volte gli autori se la prendono con noi editori, dicendo, il mio libro non si trova in quella libreria. E io dico, guarda che in quella libreria il libro ce l'hanno, ma preferisco non renderlo. E questo è il problema grosso che l'APE dovrebbe abbattere. Sì. Va bene? Allora, iniziamo a fare una politica culturale per abbattere questo pregiudizio. come è un altro dato fondamentale. Per arrivare a questo risultato, la partenza qual è? Iniziamo, permettimi, anche dagli autori. Cioè, noi dobbiamo iniziare a dire che non abbiamo bisogno di pubblicare 50 titoli al mese. Certo. Ne bastano 20. Sono d'accordissimo. Gli altri 30 scrivete su Facebook. È la stessa cosa. Abbiamo ospitato Antonella Agostino anche per questo. Risparmiamo gli alberi, risparmiamo. È meglio. Scrivete su Facebook, tanto comunque vi leggono. Peppino, io ti ringrazio. Ringrazio Secop Edizioni. Invitando ovviamente i lettori a casa a frequentare il tuo catalogo, acquistando, leggendo, contattandoti. Anche gli autori. L'invito a contattarti e suggerisco, diciamo, all'Ape di animare questo dibattito, non soltanto all'interno, ma anche al di fuori, coinvolgendo critici e autori e organizzatori di eventi. Grazie a Peppino Piacente, Secop Edizioni. Alla prossima di Instant Book. Arrivederci. This life is more than just a read-through.